Allora, tutti hanno votato. Prestigiacomo? Donati? Allora, Ferraresi? Votato, votato. Bene, la votazione è chiusa. Favorevoli 375, contradi 2, la Camera approva. Allora, adesso i pareri su due identici. Relatore Fiorio, il 64.50 e il 64.51. Prego. Parere favorevole con riformulazione. Aggiungere dopo D.O.I.G. Dopo? D.O.I.G. Ah, d'accordo. Allora, dunque, i due emendamenti sono di Capozzolo e Russo. È accettata la riformulazione? Mi fate un senno? Russo? Sì. Capozzolo? Sì. Bene. Benissimo. E allora lo poniamo in votazione. Dichiaro aperta la votazione. I pareri sono favorevoli perché hanno accettato la riformulazione. No, ma bene sempre ricordarlo. Casellato. 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 Allora, hanno votato tutti? Rotta. Rotta.